Suona il cellulare e un messaggio whatsapp pubblicitario, una Nissan Qashqai per 10.000 euro e una Fiat Panda per 4.000. Un annuncio che non è passato inosservato ad un rivenditore di auto 21enne di Canicattì. L'imprenditore si è messo subito in contatto con il presunto rivenditore e ha concordato il bonifico di 14.000 euro. Dopo però, l'uomo ha scoperto che le auto, anche se presenti a Malpensa, non sono mai arrivate a destinazione. Inoltre, il malcapitato imprenditore ha scoperto che le macchine erano state vendute da un non dipendente della società. Inutili tentativi di qualsiasi tipo di contattare il rivenditore. Così, avendo intuito di essere stato truffato, il 21enne di Canicattì ha presentato una denuncia a carico di ignoti. La polizia del commissariato di Canicattì, dopo una breve attività investigativa, è riuscita a risalire a una donna romena di 40 anni, residente a Treviso. La donna quindi è stata deferita alla procura della Repubblica di Agrigento per truffa online.